Ciao a tutti, sono Spieghano e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo in Minecraft PvP, quindi non siamo in Techcraft dopo 10 milioni di lunghi anni. Sì, faccio questa puntata come avevo avvisato nel vlog, perché per un paio di motivi. Allora, uno dei due motivi, un primo motivo è che non ho abbastanza tempo per registrare Techcraft, che come sapete vanta un tenore di, come si può dire, insomma le mie puntate di Techcraft durano un pochino, ecco. E questa è la giusta cosa. Diciamo che ho avuto altro da fare come per esempio andare all'antista, se sono dovuto andare là. E non potevo registrare di certo, e questo è un altro motivo, non potevo registrare stamattina, perché avevo mezza bocca addormentata, ecco. Sì. E non è troppo comodo. Benissimo, iniziamo subito, subito. Prima però ci facevo una spada. Se trovassimo del legno. Legno. Non abbiamo del legno? Eccolo qui, il legno. Un breaking and efficiency. Non so se lo posso rompere, perché sono nella mia... Ti odio. Quanto odio tutto questo? Infinitamente, ma è ovvio. Allora, gold sword a wicked and stone. Grazie per l'informazione. Sì, saliamo su, saliamo su e uccidiamo tutti, tutti a colpi di... Niente. C'è qualche tempo tornando inutile? Sì, già, così si ragiona, insomma. Sì, magari se avessi una spada sarebbe un po' meglio, però... Però niente. Aia. Motherfuck, non lanciatemi frecce, vi odio. Fermi tutti, infiniti. Ma che pizza, non potevo avere un... Un enchantment più. Passano da qui le frecce. Oh, yep. Mori! L'ho ucciso io, l'ho ucciso io! Sì, questa croce... E' molto stilizzata e stilosa, però... Ok, muoviamoci. Grazie per avermi fatto il ponte. Ti odio tua mamma, tua mamma, tua mamma, tua mamma, tua mamma, tua mamma, tua mamma. Quindi dicevamo... Sì, beh, avrete capito che non sono il massimo, come dire. Sì, poi, insomma, è da molto che non ci gioco. Dovete rispettare, rispettare i miei handicap. No, basta. Allora, ci facciamo le scarpette. La cosa. Le cose che fa la cosa. And... Cosa mi manca? Oh... Ah, sì, sì. La cosa che fa le cose, che fanno le cose. Poi... One, two, three. Forso che sta arrivando gente... Gentaglia, anzi, direi perché... Gente stronza. Ma dove sono gli stick, porca... Vacca? Ma soprattutto... Perché devo pagare quando... No, basta. Corri! Perché sto facendo questa cosa rischiosissima? Merda. 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 Dobbiamo scappare. No, non è vero, non devo scappare. Devo passare qui. Ahia! Ecco. Non andare alla base nemica, perché... Aia. Perché oggi sono... Oh, merda. Sei morto. Mori! Se ti beccavo... Se ti avessi beccato, in realtà. Sì, sto diventando un professorino. The fuck? Ho vinto. No. Hanno vinto. Ma che cazzo... Grazie. Ho rotto... Oh, merda. Mi sembra... Mi... Mi... Credo di aver fatto una cazzata. No, non è vero. No, non credo. Non può essere. No, non può essere. Questo è il monumento al toro, giusto? Quindi io sarei dovuto entrare là. Ok. Ci vediamo altra fa... E che mecca... Allora, siamo in una mappa che non conosco. Battle of Enchanting. Sicuramente non ne conosco neanche una di queste nuove mappe, perché parliamolo. Questa vuole dare degli incendi, degli debuff, giusto? Vediamo quali. È interessante. Sì, dovrei mettere degli ore, credo. Ah, eccoli qua, gli ore. Vediamoci questo. Vediamo che non ce ne abbiamo anche un altro. Vediamo anche un altro. Così possiamo... Scusate un attimo. Vediamo se funziona. E poi devo andare subitissimo. È solo per cosità, questo. Se funziona, ringraziatemi. Sta funzionando? Sì! Più o meno. Circa. Non vedo il miglioramento. Posso saltare due blocchi? La risposta è... Nope. Va bene, io devo andare. Mi dispiace tantissimo, perché questa puntata non è per niente bella. Fa caccare, lo so. E mi stanno pure uccidendo. Ma io vi saluto lo stesso, perché sono figo. Io sono Spiegaramontotto. Se video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google+, sul mio sito, spiegaramontotto.xdc.mx e su Facebook, digitando lag.facebook.com No, scherzo. facebook.com slash spiegaramontotto. Spiegaramontotto official, scusate. E niente, il video è finito. Ciao a lag. E ciao a tutti. Ciao!